Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì l'alta pressione africana continuerà a dominare la scena sul Mediterraneo centro-occidentale, continuando a veicolare masse d'aria roventi, soprattutto al centro-sud. Infatti l'ondata di calore prosegue sul nostro paese. Vediamo più in dettaglio la mappa della nuvolosità. Avremo il sole che continuerà ad essere protagonista da nord a sud, salvo un incremento delle nuvole sull'arco alpino, dove qui tenderà ad essere un po' più instabile la situazione per qualche infiltrazione più umida in quota che darà luogo anche a qualche temporale. Vediamo quindi il tempo che ci aspetta. Sarà una giornata ancora assolata da nord a sud, salvo un incremento dell'instabilità nel corso del pomeriggio sui rilievi alpini, con la possibilità per temporali e localmente anche violenti sulle Alpi centro-orientali, che verso sera potranno anche sconfinare verso le zone di pianura del nord-est. Temperature ancora molto elevate, gran caldo, punta e talora superiore ai 40 gradi sulle isole maggiori sulle aree interne del centro-sud. Tutti i dettagli li trovate sull'app di Trabi Meteo.